Innanzitutto grazie, vado via prima perché oggi c'è la votazione definitiva in Senato di un progetto che dal punto di vista mio, da Ministro, da Segretario della Lega, ma di tanti italiani, porterà più efficienza, più libertà, più velocità, più modernità, più semplificazione. Io ne parlo dell'autonomia regionale e quindi evidentemente il coronamento di 30 anni di impegno oggi pomeriggio prevede come un dovere e un piacere il mio essere in aula. Però il tema di cui state parlando, di cui parlerete, io ho scorso non solo i titoli ma anche i sottotitoli e le prime righe di svolgimento dei capitoli che mi porto via come consulenza gratuita, sperando che nessuno la interpreti come un traffico di influenze perché ormai non si sa mai, bisogna stare attenti anche a che pasta si mangia perché anche quello è motivo di contesa politica. Sono a dieta fortunatamente, quindi per il momento ovvio. Sì, sono temi di cui ho l'onore, non l'onere, l'onore di occuparmi da un anno e tre mesi. Noi abbiamo giurato il 22 di ottobre, siamo verso la fine di gennaio e quindi temi della logistica, dell'intermodalità, che magari non sono sufficientemente trendy da poterci imbastire un dibattito televisivo. Io infatti quando vado ospite di alcune trasmissioni televisive devo insistere perché al di là delle altre X domande su X temi mi facciano da ministro dei trasporti e infrastrutture parlare per pochi minuti anche di trasporti, infrastrutture, ferrovie, e la riforma della governance dei porti a cui sta lavorando non solo l'intero ministero ma l'amico viceministro Edoardo Rixi. Noi spesso abbiamo il problema di avere i fondi ma di non riuscire a spenderli. Questo è anche un tema delle imprese e io mi auguro che nel settore di mia diretta competenza, ovvero sia edilizia e costruzioni, si ampli il parterre di soggetti con cui lavorare perché più sono i soggetti di medie e ampie dimensioni a disposizione più tranquillo è il ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Però parto dai temi del dossier e poi chiudo ovviamente accennando ad altri temi non di mia diretta competenza al ministro dei trasporti ma da vicepresidente del consiglio che mi servono per il nesso industria e infrastrutture, parlo dell'energia, parlo della burocrazia, parlo della giustizia che sono tutti temi che ovviamente entrano in azienda. In questi 15 mesi come ci siamo approcciati? Io ho trovato entrando in ufficio un dossier corposo che riguardava 117 opere commissariate, alcune delle quali in lavorazione da 10, 20, 30, 40 anni. Io sono stato settimana scorsa a fare un sopra luogo sulla diga di Campolattaro che servirà anche all'industria in tutta la parte meridionale del paese, oltre a servire 2 milioni e mezzo di cittadini, serve all'agricoltura, serve all'industria. I lavori della diga furono ultimati nel 1993 e uno dice ma allora perché sei andato a fare un sopra luogo nel 2024 alla diga? Perché nel 1993 finirono i fondi e oggi la diga è una diga a metà perché non ha le tubazioni per far uscire l'acqua. Oggi la diga è un bellissimo lago, però da 30 anni non fa la diga, fa il lago e quindi ci fanno competizioni sportive, ci fanno bird watching, ci fanno quant'altro, però a me la diga serve se l'acqua oltre che entrarci esce per il fabbisogno industriale, agricolo ed economico. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso in mano questi dossier, abbiamo nominato alcune persone che li stanno seguendo uno per uno e quindi li stiamo accompagnando settimana per settimana, ovviamente rifinanziando e riprogettando perché progetti che erano fermi magari da 10 anni hanno bisogno di un aggiornamento. C'è un anno che sarà particolarmente importante in quest'ottica che è il 2032, ovviamente un ministero come il mio non può permettersi magari come altri colleghi di lavorare a breve termine, ovviamente infrastrutture, trasporti e logistica hanno bisogno di archi pluriennali se non decennali. 2032 perché? Perché alcune delle infrastrutture che stiamo accompagnando quotidianamente, quando dico accompagnando quotidianamente significa che il mio modo di lavorare è di chiedere conto settimanalmente dello stato di avanzamento lavori per vedere quello che corre e quello che invece ha bisogno di una spinta. 2032 primo treno merci TAV, quindi primo collegamento diretto Torino-Lione che è la decarbonizzazione vera, apro una piccolissima parentesi, la decarbonizzazione non sono i 30 loro obbligatori nelle grandi città o l'obbligo di comprare solo auto elettrica dal 2035, questa non è decarbonizzazione, questa è deindustrializzazione, che è un'altra roba. La decarbonizzazione la fai permettendo alla gente di lavorare offrendo un'alternativa, quindi primo treno TAV, la cosa incredibile che ancora il mese scorso quando siamo stati all'apertura del cantiere a Chiomonte, un cantiere per un'infrastruttura fondamentale debba essere presidiato da centinaia di poliziotti, carabinieri militari dell'esercito. Questo ci fa capire che non siamo ancora un paese compiutamente sviluppato quando tu devi mandare l'esercito a presidiare un buco dentro una montagna. Comunque 2032 primo treno Torino-Lione, 2032 primo treno che attraverserà con le sue merci il tunnel ferroviario più lungo in lavorazione che quello del Brennero, quindi fortezza Innsbruck in 25 minuti passando a 200 all'ora nel cuore di una montagna. A proposito di Brennero ho ancora oggi sollecitato i colleghi degli affari europei che hanno da più di un mese in mano la lettera con cui per la prima volta nella storia il governo italiano ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia europea per superare i divieti illegali imposti da un paese membro come l'Austria al transito del Brennero, perché poi non è un problema solo dei camionisti, è un problema a cascata di tutto il settore produttivo e distributivo italiano e quindi siccome noi abbiamo le nostre infrazioni a nostro carico aperte per i termogalorizzatori, per balneari che più ne ha più ne metta, non si capisce perché un paese membro senza che nessuno abbia mai mosso un dito negli anni precedenti a partire dalla Commissione europea possa emettere dei divieti serali e festivi lesivi della libera concorrenza e della libera circolazione di uomini e merci. Non regge, perché mi sono studiato i dati, son pignolo, il tema ambientale, semplicemente gli austriaci fanno concorrenza sleale agli autotrasportatori e agli altri imprenditori degli altri paesi europei, però conto che non a settimane, ma a giorni venga formalizzata questa lettera, ovviamente gli avvocati fanno il loro mestiere, io ho bisogno di fare in fretta. 2032, quindi nord-ovest, nord, 2032 metro C di Roma, ho inaugurato i cantieri che oggi sono più che altro corrispondenti a maledizioni, perché quando ci metti 20 minuti ad attraversare Piazza Venezia, ovviamente il 2032 lo vedi lontano e ti vengono altri sentimenti, però è inevitabile che ogni cantiere comporti un momentaneo disagio, poi sta ovviamente alle autorità locali a fare in modo di dare delle alternative per alleviare il disagio, comunque il 2032 e sarà non un'opera infrastrutturale, ma un'opera d'arte, perché pensare dei treni che per decine di metri passino sotto accanto all'altare della patria, ai fori imperiali, al Colosseo dirigendosi verso Roma Nord, Farnesina, Stadio Olimpico, è qualcosa che solo l'ingegnere italiana riesce a immaginare. 2032 primo treno, 2032 sono stato settimana scorsa a Torino, anche lì la metro 2, la linea 2 di Torino che servirà a una delle potenze industriali e torno al terzo valico, il famoso triangolo industriale Torino-Genova-Milano che negli ultimi decenni è un pochino meno industriale, non entro nel merito di scelte aziendali ex italiane che ormai d'italiano hanno poco e niente, d'italiano rimangono i miliardi di euro di denaro pubblico che hanno incassato negli anni, però ovviamente io guardo avanti e non guardo indietro, il combinato disposto Diga Foranea di Genova, anche lì io provo a parlare ogni tanto in qualche dibattito, mi fanno taglia i giornalisti, la Diga Foranea di Genova non sarà sexy, però è la più grande opera di ingegneria idraulica in lavorazione in Europa e permetterà alle grandi navi di entrare più facilmente nel porto di Genova che competerà con i porti del nord Europa e significa poi un vantaggio per tutto il sistema industriale italiano perché entra in porto col terzo valico un'ora Genova-Milano-Genova-Torino, stiamo lavorando al settore della logistica nell'Alessandrino che è baricentrico rispetto alle tre regioni Piemonte, Liguria e Lombardia e quindi il triangolo industriale del nord-ovest a lavori Diga e terzo valico ultimati tornerà a essere assolutamente una punta di diamante. 2032, primo treno, e cito sempre i treni, che attraverserà in pochi istanti e non in una o due ore lo stretto di Messina. Su questo mi piacerebbe che tutto il settore produttivo, industriale ed economico del Paese accompagnasse quella che è un'opera necessaria. In Italia purtroppo si riesce a fare polemica su tutto, sulla pasta, sulle gallerie, sui trafori, sui pullman. Un ponte è un ponte, non c'è un ponte sovranista, anzi questo è probabilmente il ponte più europeista della storia di Europa, in primis perché la stessa Europa ci chiedeva di ultimarlo entro il 2030. Siamo bravi però ovviamente contiamo di fare in fretta ma non ce la facciamo, perché non è il ponte fra Messina e Villa San Giovanni, ma il corridoio TNT, Palermo, Roma, Milano, Berlino, Helsinki, è un continuum e sarà un boost incredibile per il sistema industriale soprattutto dell'intero mezzogiorno. Studi indipendenti, penso a Open Economics, parlano di un valore di pila aggiuntivo di 18 miliardi di Euro, che quindi è ben superiore alla somma che dovremo investire per questa infrastruttura di cui si parla, almeno istituzionalmente da 53 anni, perché la società Stretto di Messina fu fondata per norma nel dicembre del 1971. Qua c'è gente che non era ancora nata nel dicembre del 1971. Ecco, metterci 53 anni non a costruire, ma a aprire il cantiere per un ponte, io penso che ci spieghi il perché in questi decenni non la Germania, perché nel nostro competitivo industriale istituzionale può e deve essere la Germania, ma paesi come la Spagna ci abbiano sopravanzato non solo sul turismo e sul lago alimentare, ma anche la Spagna ha una linea di alta velocità Madrid-Barcellona dedicata, cioè i treni di alta velocità fra Madrid e Barcellona viaggiano solo su quella linea. Noi stiamo lavorando perché in Italia non è così e se c'è un treno merci che ha un problema a Firenze, si rallenta all'alta velocità in tutta Italia perché non ci sono linee dedicate e anche lì, nonostante i comitati del no in servizio permanente effettivo, fine 2023 abbiamo inaugurato l'apertura del cantiere per l'attraversamento sotto Firenze, anche lì passare per 7 chilometri sotto un'opera d'arte assoluta come Firenze è ambizioso, sì è visionario, sì però l'obiettivo è di separare anche come merci il regionale, il locale dall'alta velocità, altrimenti ogni giorno voi quando andate in stazione vedete sul cartellone, io ogni giorno mi faccio mandare dai vertici tre aggiornamenti, mattino, dopo pranzo e pomeriggio, voglio sapere i ritardi, dove, di quanti minuti e perché, poi per carità il fattore umano, il suicidio, l'attraversamento animali, pecore, ci sta tutto, però per quello che riguarda l'efficienza e la gestione della rete, quello dipende da noi. Quindi questo 2032 ovviamente è un anno che porta l'Italia nel futuro, l'obiettivo è di esserci, a Dio piacendo, il valore aggiunto di questo governo che poi non è un ragionamento partitico, è un ragionamento di piano industriale. Sono convinto che la comunità economica e imprenditoriale italiana abbia un valore aggiunto in questa maggioranza, in questo governo perché noi abbiamo tutta l'intenzione di durare cinque anni, cosa che in Italia non è semplice, io guardavo nel corridoio che c'è fra il mio ufficio e la sala riunioni ci sono tutte le foto dei precedenti ministri delle infrastrutture dei trasporti, alcuni dei quali con una durata di alcuni mesi. È chiaro che quando Confindustria o le industrie della logistica, della portualità, dell'aeroportualità, dell'autotrasporto devono andare a spiegare a un ministro un tema che non è sempre semplicissimo e ti cambia un ministro all'anno e allora tu ogni anno devi andare dal ministro nuovo a spiegargli che cosa hai detto a quello prima, l'anno prima, eccetera, eccetera. Il mio obiettivo è stare in quell'ufficio cinque anni a Porta Pia, possibilmente con la formula dell'affitto 5 più 5, ovviamente tramite passaggio democratico intermedio che è assolutamente fondamentale, perché in dieci anni tu un'infrastruttura la immagini, la pianifichi, la fai progettare perché fortunatamente i ponti e le gallerie non le fanno i ministri ma le fanno gli ingegneri, la finanzi, la finanzi e tornando al ponte io ho vissuto settimane di articoli pensosi su Corriere della Sera e Repubblica ma tanto il ponte non verrà mai finanziato, abbiamo messo in manovra i soldi che non sono di Salvini, io sto a Roma Nord e casa mia con i miei figli e a Milano in zona San Siro, quindi probabilmente, però è qualcosa che porta un valore aggiunto a tutto il sistema paese, tanto che, ripeto, gli studi di Open Economics dicono che i vantaggi economici e occupazionali non sono solo siciliani e calabresi, ma le prime due regioni per maggior produzione di valore aggiunto sono la Lombardia e il Lazio, che sono ovviamente due regioni industrialmente ed economicamente che hanno solo da trar vantaggio da un sistema infrastrutturale più moderno. Valichi Alpini, ho convocato personalmente una riunione che terrò con tutti i portatori di interesse istituzionali ed economici a Bruxelles settimana prossima, il 31 gennaio, quindi non è una riunione annunciata per i prossimi sei mesi, settimana prossima perché c'è il dossier del Frejus, c'è il dossier del San Gottardo, c'è il dossier del Bianco, infatti ci saranno gli svizzeri, i francesi, gli austriaci e quindi sarà un confronto franco e spero risolutivo da diversi punti di vista. Vi anticipo che da Ministro dei Trasporti l'Italia è protagonista alla responsabilità del G7. In questo 2024 ho fatto prima di Natale un sopra luogo nella sede che ospiterà il G7 Trasporti e Infrastrutture Logistica che sarà a Milano, sarà a Palazzo Reale dall'11 al 13 di marzo, è una macchina complessa, però l'Italia sarà ovviamente agli occhi del mondo e il tema della sostenibilità e del green sarà assolutamente centrale, però non ideologicamente parlando, il green vero, non la moda. I dati ONU inputano all'Italia poco più del 2% delle emissioni mondiali del CO2, di questo 2% auto e moto sono protagoniste dello 0,4% stando ai dati ONU. Quindi il sistema motoristico italiano emette lo 0,4% delle emissioni mondiali e anche qua, io non ho ancora capito perché per passare dallo 0,4% allo 0,2% devo mettere in ginocchio un'intera filiera produttiva. Comunque il 2035 bisogna arrivarci, nel 2026 è previsto un tagliando, quindi conto che il buonsenso torni a prevalere perché la neutralità tecnologica è assolutamente fondamentale come sistema paese, come sistema industriale, l'elettrico sì, il fotovoltaico, pensare che si possa fare almeno del gas e dei combustibili nell'arco di pochi anni significa o non conoscere la materia di cui si sta parlando oppure essere a servizio di qualcun altro. Quindi la neutralità tecnologica soprattutto a disposizione delle aziende. Sul piano nazionale degli aeroporti stiamo lavorando al Ministero per evitare il campanile di cui parlava qualcuno e quindi se cresce Firenze va male per Pisa, se cresce Pisa va male per Firenze. Io penso che la fame di trasporto persone e di trasporto merci nei prossimi anni sia assolutamente crescente e quindi c'è spazio per tutti, ovviamente facendo delle scelte. Penso all'alta velocità, io ovunque vada trovo sindaci che mi chiedono una fermata dell'alta velocità, governatori che mi chiedono una fermata dell'alta velocità, quelle sono scelte dei tecnici perché se faccio dieci fermate l'alta velocità finisce di essere alta velocità, evidentemente. Quindi le scelte sono tecniche e non politiche, siccome ci sono discussioni aperte fra Toscana, Umbria, Calabria, quelle scelte le fanno i tecnici, non le fa la politica che fa la fermata nel comune a lui più simpatico o politicamente vicino. Quello magari accadeva qualche anno fa guardando alcune fermate dell'alta velocità o alcune uscite autostradali. Adesso vi posso assicurare che sono scelte eminentemente esclusivamente tecniche. A proposito di aeroporti, stiamo lavorando con il Ministero dell'Ambiente per superare i no per lo sviluppo dell'area cargo di Malpensa che è fondamentale, che è assolutamente fondamentale perché io adoro la brughiera, però si può sviluppare un'area cargo senza nuocere alla brughiera e all'avifauna e su questo stiamo procedendo. Per quello che riguarda i porti sono stato a Gioia Tauro perché lì a proposito di Green procedere nel nome del Green con nuove tasse, penso agli ETS sulle emissioni, rischia semplicemente di far allontanare gli imprenditori e gli operatori. Quindi non fai più Green, crei disoccupazione e quindi anche su questo stiamo ragionando. Il porto di Gioia Tauro col combinato disposto dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e del Ponte sullo Stretto, veramente fatto salvo quello che sta accadendo nel Mar Rosso e ti rispondo al volo, noi dobbiamo esserci, non possiamo non essere nel Mar Rosso, noi in veste difensiva e non offensiva perché ci manca giusto di scatenare altre tensioni e altre guerre, però nel 2024 i pirati che lanciano missili contro navi mercantili non possono essere tollerate senza che nessuno muovo un dito, anche perché i costi poi ricadono sul sistema economico e da ultimo ovviamente sui produttori e sui consumatori. A proposito di aeroporti, sono stato a Torino a inaugurare quello su cui ho merito zero, cioè il collegamento aeroporto-città di Torino, però abbiamo invece avviato i nuovi lavori Venezia-Aeroporto e settimana prossima, se non ricordo male sarò a Bergamo per l'apertura cantieri, Bergamo aeroporto. Idem stiamo procedendo su Olbia così come su altre reti aeroportuali. Mi avvio alla fine perché il tema di cui mi occupo mi appassiona, ecco magari qualcuno può pensare che il tema della logistica delle opere pubbliche e delle infrastrutture non sia appassionante, no, ho l'enorme fortuna di fare un lavoro che mi piace. Quindi siccome mi piace studiare quello di cui mi occupo, è un mondo veramente che crea ricchezza anche perché sono nella sede di Confindustria, ogni miliardo di euro di opere pubbliche significa una media di 17-18 mila posti di lavoro creati. Quindi visto che l'industria produce qualcosa che poi ha bisogno di consumatori acquirenti, perché noi potremmo produrre il meglio al mondo, ma se la qualità della vita e la disponibilità economica dell'acquirente non c'è, non si va da nessuna parte, quindi noi controlliamo centinaia di dighe come Ministero che servono al sistema industriale, stiamo lavorando al piano casa che in Italia manca da un cinquantennio perché ovviamente lavoratori e operai hanno bisogno anche di una casa che nel 2024 non è più quella delle norme igienico-sanitarie degli anni 70. È cambiato il mondo, stiamo ragionando anche sulla modifica del regolamento di igiene che prevedeva un certo tipo di finestre, un certo tipo di altezza, un certo tipo di sottotetto. Siamo nel 2024 e quindi è cambiato il mondo e dobbiamo essere noi a seguire il mondo. Su nuove infrastrutture autostradali stiamo ragionando con A22, l'autostrada del Brennero, perché ad esempio la Campogagliano-Sassuolo che dovrà avviare i lavori in una delle zone più industrialmente sviluppate d'Italia, non penso solo alla ceramica ma penso al biomedicale, penso alle industrie incredibili che ci sono in quell'asse mediopadano, penso alla Roma Latina, penso alla Cispadana, alle tre pedemontane, la pedemontana Veneta finita con fondi privati a cura di Regione Vento, in esecuzione la pedemontana Lombarda e la pedemontana piemontese. Quindi non voglio andare lungo, non voglio togliere spazio. Questo è quello che in questi 15 mesi stiamo accompagnando, progettando, accelerando e rifinanziando al Ministero dei Trasporti. Non basta, c'è il tema dell'energia e nel nome della neutralità tecnologica non possiamo essere uno dei pochissimi paesi sviluppati al mondo a dire pregiudizialmente no al nucleare come fonte di produzione energetica, perché siamo circondati da paesi che ovviamente hanno un costo energia ben più basso rispetto al sistema industriale italiano. Ce ne sono più di 400 di reattori oggi pomeriggio attivi al mondo, stanno investendo dagli Stati Uniti alla Cina, dal Giappone, alla Gran Bretagna, alla Francia. C'è un piano di investimento sul nucleare da centinaia di miliardi ed è seccante essere fuori perché poi partì da noi, gli ingegneri migliori sono da noi e le facoltà di ingegneria nucleare in Italia, nonostante l'Italia sia fuori da questo contesto di modernità e di sviluppo, hanno raddoppiato il numero dei laureati in ingegnere nucleare degli ultimi anni. Quindi significa solo riprenderci quello che è storicamente nostro, anche perché le aziende italiane stanno lavorando per fare centrali in altri paesi europei. Quindi non vedo perché dovremmo portare altrove la nostra sapienza e pagare a più caro prezzo quello che viene prodotto. Altrove c'è il tema della burocrazia e io sono orgoglioso di aver messo mano a un codice degli appalti che ha un'impronta che ha nel risultato il suo obiettivo primo, non nella procedura ma nel risultato, ovviamente garantendo la trasparenza, tanto che in questi primi giorni di gennaio c'è stata fibrillazione da parte degli enti locali perché la digitalizzazione prevista ovviamente per un comune di 5 mila abitanti è complicata, però la macchina si sta riavviando e avendo ridotto le fasi di progettazione, i tempi della burocrazia, far risparmiare a un'impresa o a un sindaco un anno di tempo sulla procedura, significa economicamente qualcosa di importante e poi c'è il tema della giustizia che riguarda gli industriali, i cittadini e gli italiani tutti. Io quando vado all'estero e rappresento quello che stiamo investendo, trovo tante aziende e investiture istituzionali pronti a investire in Italia, tutti però mi chiedono una macchina pubblica al passo coi tempi e quindi da questo punto di vista, ripeto, il codice del palti è necessario, non sufficiente, però è un'idea dell'impronta sviluppista che abbiamo. Ovviamente poi mi chiedono certezza del diritto e il fatto che non ci possano essere incursioni notturne in un'azienda che possa essere espropriata o bloccata dalla sera alla mattina per iniziative giudiziarie che non sempre vanno a buon fine. Quindi questi sono temi non di mia diretta competenza ma su cui stiamo politicamente come squadra ragionando. chiudo con un in bocca al lupo a Confindustria che sta entrando nella sua fase elettorale, non votiamo solo noi, non vota solo la politica, le elezioni, anzi probabilmente le elezioni di Confindustria saranno più appassionanti delle elezioni europee per qualcuno e quindi vi auguro un buon periodo di partecipazione democratica. Una richiesta invece faccio di ogni tanto, educatamente, in maniera documentata, argomentata, di alzare la voce. Perché se noi usiamo bene i prossimi tre o quattro anni abbiamo un boost che ci permette di recuperare un bel po' di tempo perduto come accadde nel secondo dopoguerra ai tempi del grande sviluppo del boom economico e dell'autostrada del sole. Io sono andato a rileggermi quei 700 chilometri progettati ultimati in otto anni. Oggi, ripeto, la diga è là da 30 anni senza che l'acqua riesca a uscire dalla diga. E quindi le infrastrutture portano sviluppo, portano valore aggiunto, portano nuove imprese, portano nuovi insediamenti produttivi, commerciali, culturali, portano gioventù, riportano in Italia giovani ingegneri, giovani architetti, riportano entusiasmo. E siccome ogni tanto la politica, che è normale che si divida su alcuni temi, sull'autonomia, sulla giustizia, sull'immigrazione, però che la politica riesca a dividersi sulle infrastrutture, litigare sulle gallerie, sui viadotti, sugli svincoli e sui ponti, non è normale. Quindi se la politica non ha la maturità di unirsi sullo sviluppo della spina dorsale del paese da nord a sud, in acqua e in terra, è fondamentale che i corpi intermedi rappresentativi si facciano sentire. Quindi non chiedo che Confindustria intervenga sulle riforme istituzionali o sui temi dell'immigrazione, del terrorismo islamico o di quant'altro. Che Confindustria intervenga quando c'è in ballo il futuro del paese, quando c'è da progettare, finanziare, sviluppare un'infrastruttura, io me lo aspetto. Perché il sistema industriale italiano, da uno sviluppo infrastrutturale del paese, ha solo da guadagnarci. E quindi ogni tanto è più brava a farsi sentire, a farsi notare con mezzi non sempre garbati l'Italia del no che è minoranza. Io mi aspetto da voi che rappresentate l'Italia che produce, che garbatamente anche l'Italia dei sì si faccia sentire perché sono convinto che siamo maggioranza. Buon lavoro a tutti.